Questi animali, che mangiano come i maiali, ma sono della taglia di una faina, sono gatti domestici. Appartengono alla specie Felis silvestris catus. Sono dell'ordine dei carnevoli e del sottoordine dei feliformi. E non dei canneformi come le donne, i visoni, i cani e le volpi. Voi siete i gatti del porto di Caprela?